Anche nel momento peggiore per la Russia, io faccio sempre questo esempio, cioè quando Prigozhin ha cercato di fare questo colpo di Stato, in teoria la Russia era spaventata da questa cosa, in Ucraina anche quel giorno sono cadute lo stesso numero di bombe del giorno prima, di quello dopo, di dieci giorni prima, di dieci giorni dopo, perché le bombe li continuano a cadere ogni giorno e se noi non avessimo fornito la possibilità di abbattere la maggioranza di quelle bombe prima che arrivassero, i cittadini morti, civili ucraini, sarebbero dieci volte quelli che sono stati adesso, perché questo tema, poi c'è qualcuno che dice però non è che gli ucraini siano meglio dei russi, non è che gli ucraini, la mafia ci sia solo in Russia, non ci sia in Ucraina, ah non è che solo quei, e allora? È come se la Russia avesse invasso l'Italia, la Nato fosse inutile ad aiutarci e qualcuno dice però aiutate l'Italia. Conoscendo l'Italia può essere. No, però qualcuno dice se aiutate l'Italia, in Italia c'è la mafia, in Italia c'è l'endrancheta, in Italia c'è la camorra. Noi accetteremmo che qualcuno dicesse che non ci aiuta perché non siamo tutti bravi? I paesi si aiutano se sono stati invasi e se è ileso un diritto universale che tutti abbiamo deciso di difendere. Cioè l'Ucraina non è una questione politica, è l'Occidente che decide di difendere uno dei diritti che come insieme delle nazioni abbiamo deciso di difendere, l'integrità territoriale delle nazioni. Tu puoi fare le guerre, ma abbiamo deciso che le guerre di occupazione come c'erano nell'altro secolo non fossero accettate dalla comunità internazionale. E abbiamo difeso questa cosa. Questo partendo dall'imprevisto Zelensky. Sì, questo esatto, questo lo raccontavo prima a lui e lo racconto tutti. La vicenda Ucraina è per certi versi straordinaria nel spiegare come un singolo uomo può cambiare il mondo. I russi partono e pensano che la guerra debba durare una settimana. Non sono preparati per una guerra di 500 o 12 giorni, neanche di 300. La guerra debba durare una settimana. Peraltro sono partiti nella convenzione di tutto l'Occidente che non partissero. Gli americani lo dicevano di tutta Europa. L'Europa era convinta che non partissero. Gli americani erano convinti che partissero da tempo. Partono contando di finire una settimana la guerra tutta il più. Arrivavano, non trovavano resistenza. Zelensky scappava, fine della trasmissione, occupavano l'Ucraina, mettevano un burattino a guidarla. Partono e dall'altra parte, questo ricordatevelo quando qualcuno vi dice no, l'America aveva programmato tutto anni prima. Gli americani cosa fanno? Mandano l'elicottero a prender Zelensky. Mandano a Kiev corpi speciali con l'elicottero per prender Zelensky e portarlo via da Kiev. Zelensky dice no, non salgo. Va via l'elicottero. combattevano credo a 500 metri dal palazzo. Va via l'elicottero, torna dopo tre giorni. Sempre l'elicottero americano. Per portare via sempre Zelensky. E lui per la seconda volta dice no. E lì cambia la storia. Perché dopo quella scelta di un singolo uomo, che se fosse andato via avrebbe, il mondo sarebbe diverso oggi. C'è una seconda svolta che negli americani e nei russi si aspettavano. Tutti gli ucraini la pensano come lui. E quindi si mettono a combattere. Non si arrendono. E i russi si fermano. E l'Occidente non era preparato. E quindi si è trovato a dover decidere di gestire una situazione che nessuno si aspettava. Perché nessuno l'aveva programmata. Quindi tutte le teorie, dici, non stanno né in cielo e in terra. Tutte, no. Le teorie. Non solo le teorie. Questa è la storia. Questo è quello che è accaduto. E questo ha trasformato il mondo. Ma guardate che la cosa io sono colpito perché come sapete l'Europa addestra parte delle persone ucraine che non fanno parte delle forze armate e vogliono farne parte. La cosa che a me ha colpito di più è che ci sono persone di 78 anni che dicono voglio entrare e vanno a fare l'addestramento. O madri che dicono mio figlio è handicappato, non può combattere, combatto io. Per cui quelli che si stanno addestrando perché hanno scelto di andare a combattere sono persone a cui nessuno avrebbe mai chiesto e ti danno l'idea del fatto che quel popolo, l'Occidente può supportarlo o non supportarlo, possiamo dargli armi e non armi, possiamo fare tutto quello che vuole. Quelli combattono anche con le carote, con le pietre, con le mani, perché non hanno proprio intenzione di lasciarsi occupare e di cedere il loro paese alla Russia. E chi pensa che una volta conquistata l'Ucraina si sarebbe fermata la Russia non conosce la storia di un mondo che è profondamente diverso dal nostro, che è quello orientale. Perché se qualcuno di voi si fa una settimana di vacanza in Polonia, dopo tre giorni di vacanza in Polonia, in qualunque parte della Polonia, con qualunque ceto si siede a tavola, con qualunque persona a parte, capisce che se la Russia occupasse l'Ucraina la guerra scoppierebbe con la Polonia. E se va nei paesi baltici, o in Lituania, capisce la stessa cosa, per cui in realtà quando dicono l'Ucraina fa scoppiare la terza guerra mondiale, l'Ucraina ha fermato lo scoppio della terza guerra mondiale, perché non faceva parte della NATO e quindi non ha obbligato la NATO a entrare, ma la Polonia fa parte della NATO, i paesi balcanici fanno parte della NATO, i paesi baltici fanno parte della NATO, lì sarebbe scoppiata. Per cui in teoria, per assurdo, questo è quello che impedisce, alla terza guerra mondiale. Ma l'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea o no? L'Unione Europea o la NATO? Tutte e due. Sono percorsi diversi, in guerra, come hanno detto tutti, non può entrare da nessuna parte, una volta finita la guerra, penso che il percorso europeo sia più facile e quello della NATO sia più complesso, perché nessuno vuole creare condizioni di stabilizzazione, per cui adesso è stato aperto questo tavolo, c'era Zelensky, anche io sono stato a Vilnius, con il presidente Meloni, con Tajani, con tutti i paesi della NATO, c'era anche Zelensky, ma la cosa anche qua straordinaria di questa decisione di Vilnius, se volete poi vi dico cosa c'è di diverso rispetto a tutte le altre volte che si è riunita la NATO, è che per la prima volta sono venuti il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, cioè che gli elementi, le paure nel mondo si stanno allargando, per cui... La Svezia è un paese che è sempre stato neutrale, entra nella NATO per paura, non per scelta politica, è stata neutrale la Finlandia, ma non hanno neanche l'esercito, non hanno neanche le forze armate, entrano per paura, proprio per terrore, per cui è un mondo, ripeto, diverso da quello che immaginavamo due o tre anni fa, che mi auguro possa trovare un momento di pace, che in questo anno possa chiudere almeno questa ferita. Quindi pensi che ci sarà questa offensiva e se dovesse finire in una specie di stallo si aprono le prospettive di una tregua o qualcosa del genere? Io penso che potrebbe partire, se l'offensiva non avesse risultato, potrebbe partire un tavolo di pace e penso poi che... Quindi dobbiamo sperare che l'offensiva vada male? E penso poi che i sistemi democratici abbiano passaggi, penso che le elezioni americane incideranno anche nel passaggio futuro della guerra. Ecco, io non sono convinto che gli americani vogliano andare a una campagna elettorale presidenziale con una guerra in alto. Gli americani vuol dire i democratici? Gli americani in generale... Non lo vuoi dire? No, io penso che nessuno voglia andare con una guerra in corso a fare una campagna elettorale su una guerra che non è neanche tua. Ma se dovessi rivincere Trump? Non lo so, non lo so, non mi occupo di politica americana.